E a Pisa si è chiusa ieri la prima edizione di Giorni di Tuono, un festival per ricordare la figura di Andrea Pagiaro che i suoi fumetti firmava come Tuono Pettinato. Una tre giorni per ricordare e far conoscere il fumettista scomparso l'anno scorso a 44 anni e promuovere la cultura del fumetto. Micaela Barilari. L'edizione 2014 di Luca Comics lo aveva consacrato tra i nomi importanti del fumetto, tributandogli uno dei gran guinigi ad Andrea Pagiaro Pisano in arte Tuono Pettinato, la sua città ha dedicato Giorni di Tuono, un festival organizzato dalla Fondazione Tuono Pettinato in collaborazione con il Comune, una serie di iniziative per ricordare il disegnatore scomparso a 44 anni proprio nel giugno dello scorso anno, il suo stile scarno e originale con cui ha ritratto da Garibaldi a Kurt Cobain, ma anche sostenere quella cultura del fumetto alla cui diffusione Andrea ha contribuito. Promuovere anche in futuro eventi che possano in qualche modo sostenere soprattutto i giovani che intraprendono questo mondo del fumetto che è un mondo bellissimo e affascinante. Tavole rotonde, concerti e proiezioni, incontri con fumettisti e una mostra di tavole originali al Museo della Grafica che resterà aperta fino al 19 giugno a Tuono Pettinato, ispirato il murale realizzato sulla parete della Biblioteca Comunale. Mi sono semplicemente lasciato guidare dal ricordo o dalla cosa che c'è tra me e Tuono, che c'è nel senso di quello che mi ha lasciato, l'ispirazione che avevo già.